Il non rifiutarli è un atto passivo, qualcuno decide, a te ti arrivano i soldi sul conto, puoi rifiutarli, puoi denunciarli per far scoppiare il sistema oppure te li tieni buoni e zitto. Loro non solo hanno scelto di tenerseli buoni e zitti, di gestirli senza trasparenza e senza denunciarlo invece come abbiamo fatto noi, ma a Monte loro hanno partecipato al processo decisionale, lo hanno deciso anche loro attraverso il vicepresidente della Commissione Bilancio, che è un consigliere regionale del PD, il presidente era Fiorito, il vicepresidente era PD, e attraverso soprattutto le delibere, perché in Commissione di Vigilanza, adesso abbiamo visto che Fiorito anche nei suoi verbali diceva che c'erano riunioni segrete alle quali si prendevano accordi non formali, noi in Commissione di Vigilanza non c'eravamo, non ci hanno mai voluto, abbiamo fatto anche la battaglia per esserci, perché sapevamo che in Commissione Bilancio si sarebbero consumate le cose più losche, quindi abbiamo cercato di esserci e ovviamente non ci hanno messo. Ma anche nell'ufficio di Presidenza c'era il vicepresidente del Consiglio PD, che ha deciso formalmente all'unanimità, firmato, sottoscritto, deliberato, insieme a tutti gli altri di centrodestra, di portare questi soldi da 1 a 14 milioni. Quindi non solo non li hanno rifiutati, ma lo hanno anche deciso.